Dopo l'episodio che nella notte tra sabato e domenica scorso ha vandalizzato il campo sportivo comunale, questa notte sono stati incendiati i nostri tre camion della raccolta differenziale. L'azione dell'amministrazione comunale non avrà tregua, le nostre idee le porteremo avanti fino alla fine. E' stato scritto l'onore al sindaco, onorato di guidare questa comunità, che in modo plebiscitario mi ha riconfermato e la cui vicinanza e il cui affetto io sento ogni giorno. State sereni.